ciao quinto video di risposta alle domande più o meno personali e sulla lingua e la cultura italiana siamo arrivati alla domanda 12 sei innamorata innamorata delle cose che mi piacciono non sono fidanzata quindi per ora sono innamorata di quello che faccio e di quello che voglio fare quindi va bene così a proposito passo subito alla daily routine cioè quello che faccio quotidianamente di solito mi sveglio sempre alla stessa ora che è piuttosto presto anche se vado a dormire piuttosto tardi faccio colazione anzi prima mi lavo poi faccio colazione e dopo un attimo comincio a lavorare su post e quello che devo fare di solito online visto che mi occupo di social media e collaboro con diverse associazioni rispondo o commento poi passo a se italiano e controllo se ho qualche domanda a cui rispondere qualche richiesta vostra mi occupo di scrivere qualche post e di fare ultimamente faccio molte card con i disegni e la definizione in italiano poi a volte ho vabbè pranzo ovviamente poi a volte ho la fisioterapia quindi io vado in palestra o mi alleno a casa quando torno mi faccio una doccia e proseguo il lavoro con quello che non ho fatto controllo sulla lista delle cose da fare se ho fatto tutto e cosa posso fare cosa posso organizzare o preparare per i prossimi giorni per i giorni seguenti poi è ora di cena e dopo cena solitamente cerco di fare altro cioè leggere o guardare un film per staccare un po la testa altrimenti proseguo e a pianificare e inventarmi qualcosa di nuovo per voi da fare e in linea di massima questo è quello che faccio tutti i giorni intanto qui rompono tutte le bottiglie i vetri del mondo perché se io devo registrare un video perché non fare un po di rumore e comunque sia sì questo è quello che faccio tutti i giorni di solito voi invece cosa fate fatemi sapere alla prossima